Screenshot INT Padoan. La disoccupazione giovanile in Italia resta terribilmente elevata. Un grande obiettivo da affrontare che si inizia ad affrontare. A dirlo stato il ministro dell'economia Pierre Carlo Padoan ospite alla festa degli unit di Imola. Le risorse sono limitate, e vanno usate con oculatezza. Tra le priorite c'è proprio il sostegno alla disoccupazione giovanile. Ne parleremo nelle prossime settimane con la legge di bilancio, ha sottolineato Padoana di Imola. In Italia il tasso di disoccupazione si attesta all'11.2% nel 2017 ed intorno al 10.8% per il prossimo anno. Queste sono le stime contenute nella nota di aggiornamento al DEF che ha avuto il Via Libera. Il numero delle persone in cerca di occupazione. Benci in riduzione. Resta per su livelli elevati. Ha osservato il ministro dell'economia Padoan. In particolare, la disoccupazione giovanile presenta le percentuali più alte ed un dato che si associa a un elevato rischio di esclusione sociale. Per gli anni successivi il tasso di disoccupazione dovrebbe proseguire un percorso in discesa. Nel 2019 al 10.3% e nel 2020 al 9.8%. Per quanto riguarda l'occupazione, il governo, nella nota di aggiornamento al DEF, fa presente che questa ha continuato a salire ed si portata al di sopra delle 23 milioni di unit. Una soglia precedentemente oltrepassata solo nel 2008. Negli ultimi tre anni sono stati creati circa 900.000 posti di lavoro. Oltre la MET dei quali a tempo indeterminato. In Italia, si legge ancora nel documento. Il numero delle persone in cerca di occupazione. Benci in riduzione. Resta su livelli elevati. In particolare, la disoccupazione giovanile. Che si associa a un elevato rischio di esclusione sociale. Sta diminuendo ma ancora alta. E il governo ribadisce di ritenere prioritario avanzare nella propria strategia a favore di occupazione. Innovazione e qualit del capitale umano. Raccogliendo l'esortazione ed anche sfida del presidente. Della BCA Mario Daghi. Che ha detto nelle scorse ore. Intervenendo al Trinity College di Dublino sulla questione della disoccupazione giovanile. I giovani non vogliono vivere di sussidi. I governi rispondano alle loro richieste. Essendo la disoccupazione giovanile un problema non soltanto italiano ma che afflis. In misura diversa. Tutta Europa. Il dato complessivo europeo parla di una disoccupazione ancora superiore di 4 punti percentuali. Rispetto alla crisi finanziaria del 2007.